partiti allo seccato ed erculanus all'esterno morda i silakotte biografi e kendria sitapur soba you are you in the moment gun tour grazia force just for me drella e blaugrana e in leggero vantaggio a centropista gun tour davanti ai silakotte allo steccato sitapur drella grazia force blaugrana you are you soba erculanus e in vantaggio sitapur davanti ai silakotte gun tour drella braugrana centropista per linea interna erculanus winning moment in vantaggio i silakotte davanti a sitapur gun tour drella conduce i silakotte attaccata all'esterno da erculanus sitapur gun tour I I m I ma come era nelle brevi giochi però Grazie per la visione Grazie per la visione